In vendita a Veveri, uno dei quartieri più verdi di Novara, Arte Casa Immobiliare propone questo ampio trilocale con doppi servizi. È posizionato al secondo piano e composto da un ingresso e un soggiorno con apertura su un bel terrazzo ideale per cena in famiglia o con amici nella bella stagione. Questo appartamento è dotato inoltre di cucina abitabile, due camere, due bagni e comodi balconi. Completano la proprietà la cantina e due box. Grazie. 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 Grazie.